Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo di Bonelli di AVS. Bonelli è quello che diceva che la Meloni aveva prosciugato i fiumi e Meloni gli era scoppiata a ridere in faccia giustamente e lui si era anche offeso in Parlamento. Insomma, la Meloni aveva risposto che non ha ancora i poteri di prosciugare i fiumi. Comunque, giusto per inquadrare di chi stiamo parlando. Bonelli dice che la Meloni sa solo tagliare, come Edgar Mani di Forbi, ce lo ricordate nel film, ma non è in grado di usare i soldi del PNRR. Già così sembra una sciocchezza, non è in grado di usare i soldi del PNRR. La Meloni è una frase che non ha nessun senso, ma anche sa solo tagliare non ha nessun senso. Questo è il classico caso di quando si parla a Vanvera, alla viva al parroco, si parla alla Carlona, quando si vuole attaccare una persona senza sapere cosa dire e si va di pura inventiva perché non si hanno argomenti. Quindi secondo Bonelli, Giorgia Meloni, in mani di forbice, ha tagliato tutto quello che si poteva. Sanità, in effetti la sanità non è stata tagliata, ve l'ho spiegato anche tante volte. Ha tagliato i trasporti pubblici, in realtà non ha tagliato i trasporti pubblici, ma proprio questo è completamente farneticante. Ha aumentato il precariato, e questa è una balla clamorosa, eliminando il reddito di cittadinanza, falso, non è stato eliminato, premiando i grandi evasori, falso. Allora, una serie di balle, ha tagliato la sanità, non è vero. La sanità è aumentata, la spesa per la sanità, ma in modo inferiore alla copertura dell'inflazione, cioè, ve l'ho sempre detto, facciamo 100, la Meloni aumenta di 2, 102, c'è l'inflazione all'8%, quindi quei soldi, seppur aumentati nella sanità, valgono meno, perché l'inflazione è cresciuta tanto, quindi non c'è un taglio della sanità. Ci sono degli aumenti insufficienti. Taglio dei trasporti pubblici, questa è completamente inventata. Aumentando il precariato, c'è il record di contratti a tempo indeterminato e il record di diminuzione dei contratti di precariato, cioè i contratti a termine, quindi addirittura questa è, si racconta una balla completamente opposta. Eliminando il reddito di cittadinanza è un'altra balla. Il reddito di cittadinanza è stato cambiato il suo nome, non è stato eliminato, l'80% di quelli che ce l'avevano ce l'hanno ancora sotto un altro nome, che non mi ricordo neanche come si chiama. Al 20% viene detto trovati un lavoro, ma ti do ancora 350 euro per un anno, quindi eliminando il reddito di cittadinanza è una balla. Premiando i grandi evasori, anche questa qui non ha nessuna logica, premiando i grandi evasori. Questa poi magari ce la spiegherà Angelo Bonelli, lui che è co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS. In una nota ufficiale torna a criticare la politica economica e fiscale del governo Meloni. Dice la crescita economica è a meno 0,4%, l'occupazione segna meno 73 mila posti di lavoro, l'inflazione è al 5,5% ma il carrello della spesa aumenta ad agosto del 9,6%. In 12 mesi Giorgia Meloni in mani di forbice ha tagliato tutto quello che poteva, sanità, trasporti, precariato, eliminando il reddito, premiando i grandi evasori. Allora fino a qua possiamo dire la crescita economica è a meno 0,4% è il dato dell'ultimo trimestre, ma la crescita economica sarà a più 1% quest'anno, quindi anche questa qui è una balla. L'occupazione segna meno 73 mila posti, è l'ultimo dato ma in totale è inattivo l'occupazione, anche questa qui è una bugia perché prende gli ultimi dati e li utilizza come se fossero dati annuali. L'inflazione è al 5,5% e che possiamo farci? Non è certo un governo che aumenta o diminuisce l'inflazione, il carrello della spesa aumenta ad agosto del 9,6%, quello dipende dai contratti che ci sono con la grande distribuzione che si fanno di 3,6,9 o 12 mesi, quindi sono aumenti che derivano da prezzi vecchi, contratti vecchi che vengono aggiornati, anche questo Bonelli che non ha mai lavorato nella grande distribuzione non lo può sapere, glielo spiego io che ci ho lavorato. Poi dice intanto vogliono continuare a tagliare la sanità pubblica, non è vero, non ci sono tagli alla sanità pubblica, ci sono aumenti che però non hanno coperto l'inflazione, è diverso, la cultura e i fondi per i giovani, quindi la Meloni taglia la cultura, falso, taglia i fondi per i giovani, non è vero, facendo cassa con i pensionati, un'altra bugia, mentre non sono in grado di utilizzare i fondi del PNRR che avrebbero potuto rilanciare il paese, soprattutto nelle zone più degradate, è un'altra balla, perché i fondi del PNRR ci sono e li stanno utilizzando, quindi avete visto che questa è una carrellata di balle senza precedenti. Il no al salario minimo non è condiviso nemmeno dagli industriali, per il momento non c'è un no al salario minimo ma si sta valutando, cosa fare, anche questa qui è una bugia. Ci aspetta un autunno molto caldo per difendere le tutele sociali e sostenere le politiche per la transizione ecologica contrastate dal governo, quindi il governo contrasta la transizione ecologica è un'altra bugia. Avete visto che tutto quello che ha detto Bonelli è incentrato semplicemente su delle bugie più o meno grandi, di quello che ha detto non ho trovato neanche una cosa vera, o meglio ad esempio quando parla dell'occupazione meno 73 mila lui prende per esempio l'ultimo dato reale e ve lo fa vedere come se fosse il governo Meloni che da quando è arrivato ci sono meno posti di lavoro, quindi prende l'ultimo dato e vi dice che è quello che è del governo Meloni, invece no, quindi utilizza decontestualizzando dei dati e questo politicamente è assolutamente totalmente scorretto, perché poi c'è anche il fatto che qualcuno ci casca anche e ci crede, perché se voi leggete quello che dice Bonelli vi fate l'idea di un paese distrutto dal governo Meloni che ha fatto tutto sbagliato, ma non è così. Insomma è anche brutto vedere che a sinistra utilizzano la bugia sistematica, sono dei serial frottolatori, nel senso dei serial ballisti, la balla come strumento, la menzogna come strumento politico principale. Arrivederci a tutti e grazie.